è arrivato un pacchettino da culto robbie con il secondo volume di renta girlfriend il primo l'ho letto e mi è piaciuto molto molto simpatico divertente e poi il cofanetto di parasite in love di cui ho già letto il primo volume perché ero curiosissima una storia molto intrigante di un amore tra virgolette impossibile fra due personalità particolari uno di questi ha la fobia dei germi l'altro invece non riesce a guardare negli occhi le persone questi come vi dicevo arrivano da una fumetteria online che in realtà vende anche gadget libri action figure videogiochi eccetera eccetera trovate il link in descrizione e ho con loro due codici sconto per voi il primo cb5 per il 5% di sconto sui fumetti e sui libri e il 10% di sconto con il codice cb10 su tutto il resto è arrivato poi il primo regalo di compleanno che io non sapevo fosse il regalo quindi l'ho aperto così proprio molto tranquilla e niente si è rivelato essere appunto un regalo da parte della mia amica Erika non vedo l'ora di appenderlo è bellissimo non ho la più palida idea di che cosa ci sia scritto ma mi inventerò una storia così che una volta appeso io possa raccontare chissà che cosa agli aspiti di casa una storia segreta dietro a questa bellissima illustrazione non vedo l'ora di appena ultimo giorno da 29enne sono piuttosto spaventata devo dire no vabbè scherzo in realtà questa settimana volevo farmi festeggiare per tutta la settimana manco fosse una principessa perché non so mi sa di occasione speciale no quella dei 30 anni purtroppo però non abbiamo ricevuto belle notizie in famiglia anzi decisamente molto tristi quindi ci siamo dovuti un po' riadattare diciamo alla situazione si è persa un po' l'aria di festa perché non c'è granché da festeggiare però c'è da dire che comunque mia sorella è ancora qua quindi almeno domani che mio compleanno non sarò da sola ci sarà ci sarà lei e secondo me ha preparato qualche sorpresa non so bene che cosa aspettarmi qualcosa forse sì però per il resto non ho più palida idea di che cosa accadrà domani so solo che qua mi hanno messo pioggia mentre oggi è una bellissima giornata di sole e infatti ne ho approfittato per pulire completamente casa lei infatti è uscita sono da sola ne ho approfittato per pulire da cima a fondo e mettere a posto perché non so mi dà un sacco di pace l'idea di festeggiare il mio compleanno in semplicità però in un ambiente pulito sistemato assieme nei giorni scorsi abbiamo spostato dei mobili in casa ho spostato qua nello studio la postazione trucco perché nella cabina armadio era diventato un po' troppo cupo un po' troppo buio per i miei gusti quindi abbiamo spostato un po' di cose qua in casa per esempio abbiamo spostato qua in sala la poltrona che prima era nello studio ma di fatto non veniva utilizzata granché l'altra grande novità è sicuramente questo cat kondo che abbiamo preso per taki in realtà era dei cuginetti di giù l'avevo preso per la cibi ma non l'ho mai usato quindi diciamo che l'abbiamo recuperato ecco è partita una nuova collezione in edicola questa del corriere della serie dedicata alla letteratura giapponese la prima uscita è di murakami super vantaggioso secondo me al prezzo di 8,90 euro se non sbaglio ogni martedì uscirà un titolo vi lascerò poi qua sotto in descrizione la lista completa nel caso fosse curiosi molti dei titoli io li ho già letti o in prestito digitale o li ho qua in cartaceo se non sbaglio la seconda o terza uscita sono il gatto che voleva salvare i libri e il dolce domani di banana yoshimoto di tutti e due trovate comunque la recensione qua sul canale e sul blog non recupererò quindi tutto perché per fortuna tanti titoli li ho già però è un'edizione secondo me molto carina molto ben fatta mi sembra robusta non particolarmente delicatina ecco quindi sarà un piacere sfogliarlo e risfogliarlo molto bella anche la grafica quindi ve lo segnalo nel caso foste curiosi visto che vi parlo molto spesso di letteratura giapponese mi piace 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 come il 30 mi fa un sacco strano vederlo ma va bene tra l'altro i palloncini mi piacciono un sacco anche a Taki è stata una festa inaspettata ma bellissima ho ricevuto tantissimi regali, non me lo aspettavo infatti a un certo punto mi sono anche messa a piangere magari per una cosa banale o sciocca però veramente io non sono abituata a essere al centro dell'attenzione a ricevere diciamo delle attenzioni particolari quindi mi sono sentita veramente super sopraffatta da tutto l'affetto e da tutte le cose belle che sono successe ieri, provo però a farvi vedere qualche regalo, spero di non dimenticarmene nessuno, come al solito non è un modo per ostentare vantarmi o far vedere chissà che cosa semplicemente per condividere con voi comunque la gioia la contentezza di questo evento che alla fine può essere un compleanno come un altro a me è spaventavano un pochettino i 30 e vabbè passiamo ai regali che forse sono più interessanti di me che charlo dai miei amici ho ricevuto questo libro che non conoscevo affatto ed è la principessa splendente di philip giordano io gli ho dato un'occhiata ed è tutto illustrato sono veramente molto molto carine le illustrazioni e mi sa tanto di favola della buonanotte tra virgolette quindi sono molto curiosa di leggerlo e poi questo set con il roller e il guascia per massaggiare il viso che ammetto una sera stavo per comprare non riuscivo a dormire mi sono messa a cercare cose su internet e stavo per comprarmi questo set ovviamente ieri sera ho provato subito il roller dopo il siero ed è super piacevole sulla pelle adoro mia sorella quest'anno mi ha invasa letteralmente di regali l'ultimo spero che sia l'ultimo perché ha veramente esagerato è arrivato proprio oggi ed è lo skin realist di Nabla si tratta di un fondotinta molto leggero quasi BB cream un prodotto fra trucco e skin care l'ho applicato già sul viso perché ero veramente troppo curiosa e mi piace molto l'effetto anche se me lo aspettavo più glowy più luminoso sulla pelle in realtà mi sembra quasi matt su di me però come prima impressione bellissimo mi ha anche rifornita con un paio di miei prodotti preferiti come ad esempio il contornocchi di Origins che sapete io adoro soprattutto di giorno perché va a illuminare la zona del contornocchi mi ha regalato anche il primer potion di Urban Decay il primer occhi per eccellenza quello che vi mostro sempre 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 perché è l'unico che su di me tiene veramente il l'ombretto il trucco insomma e poi questa base e top coat di Essie uno smalto trasparente appunto da utilizzare sia come base che come top coat per lo smalto non semi permanente quello classico diciamo mi ha regalato poi un gioco per la Switch che penso utilizzeremo in questi giorni ci giocheremo sicuramente assieme perché è Overcooked all you can eat l'ultimo che è uscito e non ci ho mai giocato lei invece ha già giocato a Overcooked e le piace tantissimo io sono super curiosa di provarlo mi ha regalato poi una serie di cose diciamo per la casa fra cui questo set di utensili sono carinissimi perché sono di uno dei miei colori preferiti ovvero il verde Tiffany e poi c'è veramente di tutto dal mestolo la frusta le pinze la spatola sono in silicone con il manico poi di legno veramente troppo carino ciodoline di legno bellissime secondo me sia per snack vari che zuppe sono veramente troppo carine e questo cucchiaio che vedo sempre sempre nei video delle mie adoratissime signore coreane nei vlog che piacciono a me è strepitoso anche questo tipo per la zuppa non vedo l'ora di usarlo vi è regalato anche un set di lenzuola con le pesche bellissimo è tipo un sogno che sia vero infatti questo weekend fium le cambio subito voglio mettere subito sul letto tutta questa pescosità sono veramente troppo troppo carine i miei invece ed è la cosa per cui ho pianto mi hanno regalato dei piatti di seretti di questa collezione ispirata al kintsugi ovvero la pratica diciamo di recuperare quello che si rompe ricucire i pezzi rimetterli assieme utilizzando l'oro e si utilizzano effettivamente dell'oro per questi piatti e sono molto particolari a me piace tantissimo come stile li adoro me ne hanno regalati tre da dolce due piani e due fondi da zuppa pasta eccetera sono meravigliosi desideravo tantissimo qualcosa di questa collezione proprio perché sono dei pezzi comunque molto non so particolari rispecchiano un po' la mia estetica e quindi sono veramente tanto tanto felice mi hanno regalato poi anche una crema di dior questa è la capture total cell energy di cui io sto provando un campioncino che in realtà ho terminato se non sbaglio ve l'ho fatto vedere uno o due vlog indietro che vi dicevo appunto mi stavo trovando molto bene con la crema e il siero e mi hanno regalato la crema che sta di lusso sfrenato io sono veramente senza parole volevo farvelo vedere perché è veramente molto molto carino adoro così appena finisco il campioncino mi manca veramente pochissimo ho già la crema qua pronta da mia zio ho ricevuto poi un albero su tridom l'albero del toro che è una moringa e ho letto che è una pianta diciamo porta fortuna perché si dice che è una pianta che cura fino a tipo 300 malattie qualcosa del genere quindi per questo si dice che è una pianta fortunata quindi speriamo sia veramente fortunata sono stata poi chiaramente invasa da un sacco di fiori questi me li ha fatti mio marito provano tantissimo sono bellissimi mi ha fatto poi un regalo pesantissimo per cui sono troppo felice troppo troppo felice contenta il cofanetto di Lady Oscar le rose di Versailles di Rioco Ikeda è bellissimo ci sono praticamente davanti i cancelli come vedete questo è proprio bello anche da esporre e qua ci sono tutti i volumi più un volumetto extra che raccoglie se non sbaglio tipo le copertine le locandine che negli anni sono uscite e poi c'è anche un cartoncino piccolo con Lady Oscar in modo da poterlo proprio esporre con Lady Oscar di fianco è bellissimo bellissimo come avete visto poi ieri a pranzo siamo stati da Tenoa altra grandissima sorpresa io non c'ero mai stata e ovviamente non sono uscita a mani vuote ma i miei mi hanno regalato questo piattino per la salsa di soia che una volta messa appunto la soia rivela questo disegno molto carino di un gatto tra l'altro a pranzo avevamo uno di questi piattini col monte Fuji e ce ne siamo innamorati particolarmente io poi ho preso appunto questo col gattino mia sorella ne ha preso un altro sempre con un gatto che però si stiracchia molto molto carino e poi ho preso questo libro sul ramen è praticamente fatto molto molto bene perché spiega come preparare diversi brodi come combinare diversi prodotti anche a seconda della stagione e bene o male spiega come fare tutto tipo anche le uova la carne che viene presentata il brodo eccetera ci sono tantissime varianti diciamo anche della stessa zuppa quindi in base ai gusti e alle preferenze vegetariano con pesce con carne eccetera lo sto adorando se solo così a sfogliarlo mi sembra veramente strepitoso e non vedo l'ora di preparare qualcosa stavo quasi per dimenticare il regalo dei regali un pacchetto di cioccolatini lint con i miei cioccolatini preferiti che sono per lo più questi bastoncini soprattutto questi rossi che sono al cioccolato fondente dentro hanno i cereali ma anche quello bianco con il cioccolato bianco i cereali è buonissimo e i giandugliotti buonissimi anche quelli fondenti grazie a tutti Grazie per la visione!